Il Movimento 5 Stelle è antifascista e soprattutto non è né di destra né di sinistra. Finché Casa Pound sarà dichiaratamente di estrema destra, è difficile che qualcuno di loro entri nel Movimento. I problemi del Paese però sono altri e di quelli vorremmo parlare. A ribadirlo, gli esponenti del Movimento 5 Stelle Abruzzo presentando ieri a Pescara i candidati al Parlamento nella circoscrizione Abruzzo. Uno dei nostri requisiti è quello di non appartenere ad associazioni o movimenti che abbiano statuti in contrasto con i nostri principi, hanno detto ancora gli esponenti Movimento 5 Stelle sulle polemiche di Casa Pound. I candidati al Parlamento nella circoscrizione Abruzzo hanno un'età media di poco superiore ai 30 anni per la Camera e ai 40 per il Senato. Siamo gli unici, hanno spiegato gli attivisti del Movimento presenti, a candidare persone senza alcun mandato elettivo svolto precedentemente in Abruzzo. Siamo il Movimento con la maggiore percentuale femminile in Italia e il tutto senza che vi sia stato bisogno di alcun regolamento. Il leader del Movimento 5 Stelle sarà giovedì 17 gennaio a Teramo, alle 17 in Piazza Martiri, a Chieti alle 21 in Piazza San Giustino. Le città, come confermato dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, sono state scelte con un sondaggio tra gli attivisti. Si tratta di centri in cui Grillo non è mai stato e in cui si stanno costituendo gruppi ampi. I candidati, tutti incensurati e senza procedimenti giudiziari in corso, hanno evidenziato, sono espressione delle volontà dei votanti e delle parlamentarie. I nostri candidati si ridurranno lo stipendio a 5.000 euro lordi, la metà di quello previsto per i parlamentari, e percepiranno rimborsi solo se documentati e necessari. Il Movimento 5 Stelle rifiuterà rimborsi pubblici per un risparmio di svariati milioni di euro.